Bene, parliamo della massa atomica e della massa molecolare. Definiamo un po' prima il contesto. Il contesto, quello generale, è quello che l'universo è formato da materia. E la materia è formata da sostanze e le sostanze sono formate da particelle. Ora, le sostanze pure sono formate da particelle tutte uguali. Ci sono diversi tipi di sostanze. Per alcune le particelle sono direttamente atomi, per altri sono molecole, per altri sono ioni. E gli ioni possono essere di carica positiva o di carica negativa. E si chiamano cationi e anioni. Ora, facciamo qualche esempio di sostanze. di sostanze la cui particella è direttamente costituita da atomi. Per esempio, il neon è una sostanza atomica. Per esempio, tutti i metalli, come il ferro, le consideriamo atomiche. Anche l'elio è atomico. La particella la esprimiamo direttamente con la formula che corrisponde con il simbolo atomico. Molecole. Sostanze di tipo molecolare possono essere anche se sostanze elementari, come per esempio H2. Sono due atomi, ma sono identici. Ma due atomi uniti formano una molecola. Lo stesso possiamo dire per N2, azoto. Lo stesso possiamo dire per S8, che è la molecola otta atomica, otto atomi di zolfo. ossigeno, O2, addirittura di ossigeno. Abbiamo due sostanze elementari. O2 è l'ossigeno che respiriamo. ed O3, l'ossigeno triatomico, che si chiama ozono. Questo qui, il nome in italiano è ozono. Anche molto famoso, perché si torna nella stratosfera della Terra, dell'atmosfera terrestre, e ci protegge dai raggi ultravioletti che vengono dal Sole. E altre molecole, però, di sostanze non elementari, le conosciamo pure come quella dell'acqua. e non faccio H2O, non mi viene bene questo 2. Va beh, H2O. Altre sostanze, che hanno il nome generale di sali, mettiamo, voglio cambiare colore, e sono costituite da ioni positivi e ioni negativi. Famoso è il sale da cucina, NaCl, scritto così, sembra una molecola, e invece la dobbiamo considerare solo una formula, perché in realtà Na è un catione positivo, e Cl è Cl-, è un anione negativo, e in realtà le dobbiamo considerare come particelle assestanti, differenti, per cui non è un'unica molecola, come consideriamo quella dell'acqua, o quella dell'azolfo, ma sono particelle distinte di carica opposta. Bene, tutto questo per dire che le particelle, le masse di questi atomi, noi le abbiamo disponibili dove? In tavola periodica. In tavola periodica vediamo un atomo di idrogeno che ha massa 1,008, litio che ha massa 6,94, zorfo che ha massa 32,06. Che cosa significa? Come sono state calcolate? sono state calcolate per confronto, per confronto portandole allo stato gassoso. Torniamo al paragrafo precedente e ricordiamoci il principio di Avogadro. I gas hanno la proprietà per cui, se sono mantenuti alla stessa temperatura e alla stessa pressione, volumi uguali contengono lo stesso numero di particelle. Questo significa che noi possiamo confrontare a livello macroscopico la massa di bombole contenenti gas differenti, e qui vediamo ossigeno e cloro, e facendone il rapporto, la divisione tra le masse, noi otteniamo il rapporto tra le singole molecole, tra le singole particelle. Questo fa sì che noi siamo in grado di calcolare le masse relative, cioè il confronto tra le masse. Ora, questo lavoro è stato fatto. La massa di riferimento che è stata scelta è la massa del carbonio 12, ma è stata definita come unità di massa atomica, ma non la massa del carbonio 12, la dodicesima parte del carbonio 12, che è un isotopo del carbonio. Quindi, questi valori che noi troviamo in tavola periodica stanno a rappresentare per il beriglio, per esempio, 9,0122 volte la dodicesima parte del carbonio 12, cioè un atomo di beriglio pesa 9, poco più di 9, volte la dodicesima parte del carbonio 12. Espresse in questo modo le masse relative, essendo il rapporto e quindi il confronto tra due masse e un numero puro. Numero puro significa senza unità di misura. in realtà dopo con l'utilizzo di questo strumento che è lo spettrometro di massa sono state calcolate le masse assolute e cioè il valore della dodicesima parte del carbonio 12. Ora, la dodicesima parte del carbonio 12 è stata poi a questa massa è stata assegnata l'unità di misura U, per cui l'unità di riferimento è U, detta anche da altora, ma non si usa più, si usa U che è uguale alla dodicesima parte del carbonio 12 ed è stata misurata la massa in chilogrammi e in grammi che corrisponde a essere 1,661 qui c'è scritto un 7 finale in realtà è un errore per 10 alla meno 27 chilogrammi o per 10 alla meno 24 grammi. Allora, se noi esprimiamo la massa relativa usiamo questi valori senza unità di misura. Se noi esprimiamo la massa assoluta usiamo questi stessi valori questi stessi valori numerici con l'unità di misura U quindi noi possiamo usare le masse noi possiamo facciamo un foglio nuovo noi possiamo usare le masse atomiche senza unità significa che la massa atomica che stiamo usando è relativa se vogliamo possiamo mettere una R o scriviamo proprio relativa se invece usiamo quegli stessi valori come masse atomiche assolute possiamo usare l'unità di misura U quando poi useremo le masse atomiche molari usa o molari vuol dire di una mole useremo l'unità di misura grammi barra mol ora in realtà U andrebbe specificato U per atomo ok che un atomo ha quella massa in U facciamo l'esempio dell'idrogeno allora l'idrogeno ha massa relativa 1,008 quindi la massa atomica dell'idrogeno vale 1,008 U se invece esprimiamo la massa relativa dell'idrogeno scriviamo la massa atomica dell'idrogeno e la esprimiamo come massa relativa scriviamo 1,008 1,008 senza unità di misura se invece vogliamo riferirci alla massa atomica anzi no alla massa molare massa molare dell'idrogeno e vale 1,008 grammi mol ora che cosa vuol dire mol che non è la massa di un atomo di idrogeno ma di una mole di atomi idrogeno e una mole quanti atomi di idrogeno contiene contiene 0,22 per 10 elevato alla ventitresima atomi se ci riferiamo all'atomo di idrogeno ora tutto questo discorso della massa assoluta della massa relativa della massa molare può essere riferito alle sostanze alle sostanze delle quali noi conosciamo la formula per cui se noi ci vogliamo riferire a quella che in italiano chiamiamo acqua e che con linguaggio chimico corrisponde alla formula chimica bruta H2O noi della molecola dell'acqua dell'acqua noi possiamo esprimere la massa molecolare e scriviamo in pedice di H2O uguale a che cosa? alla massa atomica dell'idrogeno perché ci sono ci sono atomi di idrogeno ma ci sono due atomi di idrogeno quindi si scrive due per due volte la massa atomica dell'idrogeno più pardon non due ma una sola volta la massa atomica dell'ossigeno e andiamo a esprimere la massa relativa dell'acqua allora la massa relativa dell'acqua sarà data da 1,008 più moltiplicato due volte più la massa dell'ossigeno che vale 15,999 per semplicità approssimo all'intero e scrivo 1 utilizzo 1 come massa dell'idrogeno e massa relativa e 16 per la massa dell'ossigeno e quindi andiamo a scrivere 2 per 1 più 16 uguale 18 ora 18 è la massa relativa dell'ossigeno massa relativa relativa non dell'ossigeno dell'acqua dell'acqua senza unità di misura 18 se invece non voglio esprimere la massa molecolare relativa ma la massa molecolare assoluta dell'acqua applico al valore calcolato 18 l'unità di misura u del quale noi conosciamo addirittura il valore in grammi cioè se io volessi esprimere la massa in grammi di una molecola di acqua basterà di moltiplicare 1,661 diventiamoci questo errore per 10 alla meno 24 moltiplicato il valore perdono il valore di 18 18 u perché un u ha quel valore là in grammi ok questa è la massa molecolare di una molecola assoluta utilizzando u solo in un secondo momento siamo diventati in grado la comunità scientifica è stata in grado di esprimere questa unità assoluta la massa assoluta inizialmente si lavorava solo con le masse relative andiamo avanti se noi andiamo a misurare a esprimere la massa molare allora i simboli sono gli stessi H2O la massa molare dell'acqua usiamo lo stesso valore numerico 18 ma con l'unità di misura grammi molla e noi se noi pesiamo 18 grammi noi sappiamo che stiamo misurando la massa assoluta di 6,022 per 10 elevato alla ventitresima che è il numero di Avogadro la costante di Avogadro di Avogadro di Avogadro